Ciao a tutti, questo è il video degli allenamenti settimanali dall'8 al 14 giugno. Appena terminata la prima settimana di allenamento, tre sedute di allenamento, tre stimoli allenanti diversi. Una seduta di forza in palestra. Durante la settimana ho avuto un piccolo dolore all'inguine, quindi sono andato da Alessio per capire cosa fosse. Allora, questo è il tendine che ti fa male? Sì. Allora, questo è il tendine del Lidopsoas, rilassato con la gamba, nella sua inserzione a livello del femore. Normale, piccolo sovraccarico, dolore bilaterale anche se maggiore a sinistra, niente di preoccupante, c'è soltanto da aggiungere dello stretching specifico sulla catena profonda. Ok, sposta il baricentro in avanti, tallone sinistro sempre a terra, devi sentir tirare la parte anteriore inguinale a sinistra, che è proprio il decorso del muscoli Lidopsoas. Alessio mi ha dato questa crema da applicare prima di ogni allenamento sul punto dolente. Una seduta aerobica a battito cardiaco costante. Una seduta a circuito con i pesi. Allora, ciao! A presto!